Mi chiamo Michelle Darnell e sono la donna più ricca d'America. Quanto sono ricca? Volevo calarmi sul palco a cavallo di una fenice d'oro ed è ciò che ho fatto! Io gestisco i tuoi affari e in più sono una mamma single, me lo merito un aumento. Tu hai figli? Sì, ho sempre pensato che fossi assessuata. La dichiaro in arresto per insider trading. Michelle, non fare resistenza! Vick, vick! Sei in banca rotta, ti hanno congelato tutti i conti. Claire, trovami un altro avvocato. E con quali saldi lo paghi, carota squattrinata? Mamma, se non ho un posto dove stare dovrebbe restare qui. Ma guarda, un letto dentro al divano. Attenta, a volte fai i capricci. Non è così me! Credo di essermi rotta il bacino. Michelle, esci da quel bagno. Oh mio Dio! Mi sto auto-abbronzando. Sì, però copriti! Senti, ho lasciato qualche striscio sulle gambe. Oh mio Dio! Wow! Michelle, alzati dal divano e accompagna Rachel al gruppo d'anti di leone. Il nostro gruppo ha raccolto 189 mila dollari. Oh cavolo. E questo cos'è? Mi rimetto in affari. Metteremo su un impero di brownie e insegneremo a queste ragazze i trucchi del mestiere. Ci servono delle buone reclute. Trovami ragazzi aggressive. Chi è quella tipa? Crystal del vecchio. Quelle cos'hanno sempre nomi da spogliare in liste. Che avete da guardare? Mettila sulla lista. Ok Crystal, cosa diciamo a chi non vuole comprare? Compra i brownie o ti uccido. Non dirlo Crystal. Sì, dirlo è perfetto. Ehi, che fate? Questa è zona dei denti di leone. Rimangono solo le ceneri. Cavolo. Quel maglione sembra dire non toccarmi. Tra poco ho un appuntamento e tu non sei incoraggiante. Mi sembra di sentire quei tristi bassotti gridare disperatamente. Claire, metti un push-up. Le mie tette non hanno quella voce. Per favore, non vogliamo stare sopra i tuoi jeans. Fammi vedere. Cosa sei? Una marionetta. Cosa sei? Cosa sei? Cosa sei? Cosa sei? Cosa sei? Cosa sei?